Furto nella notte scorsa in un deposito di vini dell'azienda agricola Lucarelli di Cartoceto. 4.000 bottiglie di vino, di cui 1.200 di pregio in confezioni particolari, per un valore commerciale di oltre 70.000 euro. I ladri si sono introdotti tra le 2 e le 5 del mattino nel deposito, passando per un lucernaio nel tetto della struttura e poi camminando sugli scaffali per non far scattare i sensori, fino alla zona degli uffici dove, individuata la centralina, hanno neutralizzato l'impianto d'allarme. Da lì in poi, per loro è stato come fare la spesa al supermercato e probabilmente a giudicare dalle tipologie di vino e formati, anche magnum, delle bottiglie portate via, sono andate a colpo sicuro, sapendo bene cosa prendere, non le prime casse che gli capitavano davanti. Lo testimonia anche il fatto che per arrivare a prendere dal fondo del magazzino due bancali di una tipologia di vino, ne hanno dovuti spostare diversi. Sapevano cosa prendere e dove prenderlo, dall'azienda Lucarelli che da anni è tra le prime aziende a livello marchigiano e nazionale, con importanti riconoscimenti per le manifestazioni di respiro anche internazionale dell'enologia di alta fascia. Tra le bottiglie portate via anche l'intera partita di un nuovo prodotto che doveva essere immesso sul mercato proprio in questi giorni, il giuglio 37, uno spumante, metodo classico, una bollicina frutto di tre anni di duro lavoro tra vendemmia, vinificazione e affinamento, un prodotto di alta fascia che sicuramente avrebbe dato filo da torcere ai migliori Franciacorta. Ma questo potrebbe essere il tallone d'Achili dei ladri, non essendo stato ancora commercializzato, se qualche bottiglia dovesse comparire, diciamo così, in qualche locale o ristorante, arriverebbe sicuramente da questo furto. È un bel colpo, sia a livello economico, ma sia anche a livello affettivo. Ci sono dei prodotti che chi li cura, chi ci lavora, ci tiene. A me, per esempio, questo prodotto qua dispiaceva anche a venderlo dall'affezione che uno ha, quindi pensa un po' se te lo vengono a rubare. Sono cose che purtroppo accadono, ma fanno veramente male quando arrivano. Tra l'altro per portarle via, visto il peso, anche ci hanno impiegato abbastanza tempo. Con un camion grande, usando il muletto che abbiamo qui dentro il magazzino, logicamente un camion che comunque ha 70-80 quintali di portata. Ora le indagini per questo furto sono affidate ai carabinieri di Colli al Metauro, coordinati dal comandante Antonello Pannaccio, che stanno ricostruendo in queste ore gli spostamenti della banda e le vie di fuga, che per portare via gli oltre 7 bancari di bottiglie per 70 quintali di peso devono aver utilizzato certamente un mezzo pesante. Ma l'appello sconsolato del produttore Lucarelli va anche a tutti coloro che dovessero notare una delle sue bottiglie. Una bottiglia come questa è di avvisare l'azienda e subito i carabinieri per poter così risalire ai responsabili del furto.